Simone, la prima fatica a Piombino contro una Solbat veramente caricata per la prima di campionato. Coach Andreazza ci ha detto che ancora deve molto fare, ha ancora tanto da fare con i suoi, però abbiamo visto quanto questo campionato di Serie B sia qualcosa di molto impegnativo, forse anche più impegnativo rispetto allo scorso anno. Cosa ne pensi della prima sconfitta della Fiorentina Basket in casa di Piombino? Sì, se il campionato sia più competitivo dell'anno scorso, secondo me è un po' difficile da dire, è ancora troppo presto, le squadre hanno bisogno di tempo, giustamente come ha detto Coach Andreazza, per lavorare, per migliorarsi e per oliare i propri meccanismi. Sicuramente è una sconfitta, a me non mi piace mai perdere, quindi è una cosa che fa riflettere, nel senso che dobbiamo vedere, abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto nel primo tempo e poi abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, provando a mischiare un po' le carte, comunque una sconfitta che ci fa capire, appunto, come hai detto giustamente te, la durezza del campionato e quello che ci attende da qui a fine stagione, perché, insomma, siamo tutti coscienti che ogni partita, giustamente, deve essere affrontata come una guerra e quindi dobbiamo prepararci nel miglior modo possibile. Riniziate martedì ad allenarvi, il prossimo impegno sarà domenica prossima a San Marcellino, 14 ottobre, ricordiamo, alle ore 18, e le poche presenze oggi vi hanno seguito, sicuramente è una passione che sta crescendo in città, a Firenze, vuole lanciare un messaggio se ancora ce ne fosse bisogno da capitano della Fiorentina Basket. No, assolutamente, poi è bellissimo che esser cresciuto, insomma, anche con l'aumento del pubblico, essere seguiti, essere seguiti tanto, insomma, questo ci fa veramente piacere, perché è anche frutto del lavoro che facciamo ogni giorno ed è anche frutto del lavoro di quello che è stato l'anno passato e tutte le cose belle che sono successe l'anno scorso, quindi ci aspettano la prima in casa di questo campionato, il nostro obiettivo è fare come abbiamo fatto l'anno scorso, cioè affrontarla forte e per provare a vincerle tutte in casa. Sappiamo che, insomma, l'anno scorso è stato il nostro fortino, vogliamo che continui ad esserlo, vogliamo che ci contraddistingua questa cosa all'interno del nostro campionato e sicuramente è bello stare al palazzetto, è una cosa bella, il nostro sport è bello e noi ci sforziamo per divertirci e far divertire tutte le persone che vogliono, quindi siccome penso che sia lo sport più bello del mondo ed è fruibile per tutti, insomma, un invito a domenica prossima a San Marcellino, assolutamente vi aspettiamo tutti. Un passo alla volta. Un passo alla volta, come sempre.